allora questo è un tipo di valutazione questo stava vabbè adesso è sceso di mille crediti ma tanto si può snapperare anche a meno però come dicevo su telegram al di là che questo giocatore qua gioca o non gioca secondo me uscito dai pack potrebbe prendere crediti ok secondo me potrebbe arrivare a quei 180 190 mila crediti magari prende quei 20 30k come può arrivare a 2 220 ok io penso che perché questo giocatore qua si sta riprendendo già sta lavorando sul campo ok nella realtà quindi magari juve inter non ci sarà ma dalla prossima potrà giocare comunque sono 5 partite al di là dell'app che poi non è che lo prende solo se gioca tre partite ma anche ci sono altre due variabili secondo me questa carta qua può arrivare intorno ai 190 200k secondo me non sono sicuro al 100% è una valutazione che posso consigliare come non posso consigliare però se pensate che terzino sinistro c'è teo hernandez che è quello la più utilizzato ed è francese questo è brasiliano e può linkare benissimamente ma oltre a questo terzino qua oltre a teo hernandez ci sta spinazzola che adesso ho visto che stava intorno ai 140k prima ho visto che non è preso tanto in considerazione nonostante sia forte perché comunque italiano e non è che la bandiera italiana possa linkare che tipi di giocatori meta ok quindi secondo me sto giocatore qua una volta uscito dai pack può prendere un bel prezzo quindi secondo me se scendi ancora intorno ai 150 148 magari perdi altri 10k tra oggi e domani perché oggi comunque c'è l'apertura dei premi quindi può uscire domani con la weekend link magari fino a settimana ce lo troviamo di meno io sinceramente penso che lo andrò a comprare oltre a questo quello invece che potrebbe essere interessante rodrigo e pedro pedro perché interessante perché comunque è un bel esterno può giocare anche da ciocci ma anche da attaccante sinceramente 45 pedro bene o male o aiuto gioca dentro dentro la lazio anche questo potrebbe salire magari può arrivare intorno ai 60 70 mila crediti anche questo è da prendere in considerazione secondo me è molto utilizzabile come carta comunque un 45 è un simile bei header anche se bei header comunque più forte la finalizzazione 88 con cacciatore va bustata agilità 99 equilibrio 99 stamina 94 c'è va giù c'ha tutte le caratteristiche una volta uscito dai pack secondo me questi sono buoni investimenti da fare di questo team 2 foot fantasy